ciao questo è il boris wild market deck appunto un mazzo contrassegnato di boris wild il più famoso il più pratico è fenomenale in un attimo saprete tutte le carte del mazzo con una semplice occhiata questa qui per esempio è il k di quadri quest'altro è l'asso di fiori questa qui è il 10 di picca basta una semplice occhiata e saprete tutte le carte meraviglioso ma mi raccomando usate questo mazzo solo per i giochi prestigio perché altrimenti